Quel tiro da tre punti è cresciuto esponenzialmente nei play-off. Hucketz, palla a Calestro, arriva a Bellinelli, il classico tiro alla Bellinelli. Grande inizio. Parte Schenghelia, la palla passa da Paiola che si appoggia subito a Giorgiano. Arriva Bellinelli, tiro alla Bellinelli. Quando eseguono questo movimento difficilmente Bellinelli sbaglia. Libi Liga su Michi che riceve solo adesso. Il taglio di Bellinelli che sorprende Neppier alle spalle. La rimessa per Bellinelli. E Milano si fa beffare per la seconda volta sulla rimessa. Adesso va a forzare Neppier, il tiro in reversa, il rimbalzo è sempre di Bologna. Bellinelli esce per il tiro da tre. Bellinelli ne abbiamo vinta una, dobbiamo vincere la seconda per andare a Milano mettendogli pressione. Direi che lui... Bellinelli, giocare alla prossima. Bellinelli, giocare alla prossima. Buongiorno! Grazie.